Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Il furto che non ti aspetti, quello registrato nelle scorse ore alla stazione ferroviaria di Fondi e denunciato attraverso i social network, una vecchia panda è stata alleggerita dei due sedili anteriori che sono stati smontati e rubati, sconcerto nel video postato sui social presumibilmente dal proprietario dell'auto che ha commentato l'accaduto con l'aggettivo incredibile. Il comandante di una nave a Ponza è stato soccorso dalla guardia costiera e preso in cura dai sanitari dell'isola. L'uomo di nazionalità cilena di 49 anni nel pomeriggio di mercoledì è iniziato ad accusare forti dolori alla schiena a causa presumibilmente di un trauma richiedendo immediata assistenza. Il comandante è stato dunque soccorso a bordo del proprio mezzo e poi trasportato presso la banchina Punta Bianca del porto di Ponza per essere successivamente trasferito al locale poliambulatorio per le cure del caso. Da ieri affondia in vigore l'ordinanza per prevenire gli incendi boschivi che troppo spesso sono i veri protagonisti della stagione estiva. Si tratta di un'ordinanza che rimarrà in vigore fino al prossimo 30 settembre. In questo arco di tempo è severamente vietato accendere fuochi, far brillare esplosivi e usare qualsiasi strumento che rischi di provocare brace. Ma non solo, sono vietati anche l'utilizzo di fuochi pirotecnici e del lancio delle lanterne a Mongolfiera, salvo che questo venga autorizzato dal comune previo un piano di sicurezza anti-incendio. Per i trasgressori è prevista una multa dai 25 ai 500 euro. A Itri l'amministrazione comunale è in prima linea per la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Infatti, secondo quanto reso noto dal primo cittadino locale, Giovanni Agresti, sono stati installati due nuovi defibrillatori presso i luoghi che saranno maggiormente frequentati dai visitatori quest'estate, ovvero la piazzetta Fra Diavolo in pieno centro storico e nel Museo del Brigantaggio. Un terzo defibrillatore è stato installato sulla seconda auto utilizzata dalla polizia locale così che entrambi i mezzi in dotazione presso il comando dei vigili di Itri possano prontamente intervenire se necessario con defibrillatore a bordo. Attesa a fondi per il convegno che si terrà presso la sala conferenze del Castello Chetani a partire dalle 18.30, un evento dal titolo importante perché mette insieme il ruolo della donna prima, durante e dopo la pandemia e anche perché arriva grazie alla collaborazione del gemellaggio con la città tedesca di Dachau. A moderare il convegno che arriva a seguito di un periodo di collaborazione e confronto tra esperti e associazioni locali e tedesche, la conduttrice e giornalista televisiva Carmen Lasorella. Nell'ambito del progetto Policoro della conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di Gaete è stata istituita la borsa di studio per l'anno 2023 del valore di oltre 3.000 euro per la formazione di animatori di comunità individuati dalle diocesi che aderiscono al progetto. La borsa di studio è finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. La domanda di partecipazione indirizzata direttamente alla diocesi partner del progetto deve essere trasmessa entro massimo il 30 giugno. Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito web della diocesi di Gaeta. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.